Ciao, sono Emanuele Rauco e benvenuto sul mio canale. Io sono un critico cinematografico e sono molto contento che tu sia qui. In questo canale potrai trovare cinema, ovviamente, recensioni, contenuti, analisi critiche o riflessioni non solo critiche sul cinema di oggi e sul cinema di ieri. Potrai trovare video sull'attualità, le versioni video dei miei podcast, video per parlare dei grandi autori del cinema e poi due live al mese. Una a inizio mese per parlare con voi di cinema e per aggiornarvi sui progetti del canale e del mio lavoro e una a metà mese per raccontarvi i grandi film che hanno fatto la storia del cinema. Se poi volete andare indietro nei video del canale potreste trovare tante altre rubriche come per esempio i Chiedi chi era, che sono rubriche di approfondimento dei grandi maestri che hanno fatto la storia. Sono un tipo di video complessi che hanno bisogno di una lunga elaborazione e un tipo di video che voglio proporre agli abbonati di questo canale. Infatti se volete sostenere il canale e aiutare a migliorarlo potete abbonarvi. Ci sono tre livelli di abbonamenti. Il livello cinefilo che oltre ai ringraziamenti pubblici vi dà la possibilità di accedere al mio canale Telegram riservato in cui ci sono un sacco di contenuti originali pensati solo per gli abbonati del canale. Il livello cultore che oltre ai vantaggi del primo livello vi dà anche la possibilità di live streaming riservati agli abbonati e video esclusivi per voi che vi volete abbonare per esempio video su richiesta o appunto contenuti più divulgativi o più ampi come i Chiedi chi era di cui vi dicevo prima. E il livello produttore che oltre ai vantaggi dei primi due livelli vi dà la possibilità di avere del merchandising a prezzo scontato per esempio i miei libri o i miei corsi aggiornamenti in anteprima e in esclusiva sul mio lavoro su ciò che potrete vedere nel mio canale o che potrete leggere chat room riservate agli abbonati e incontri dal vivo sia online o sia di persona quando è possibile. Mi trovate anche su Twitter, Facebook e Instagram i miei podcast li potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast Spotify, Apple, Google e poi un altro modo per sostenermi è il canale Buy i miei coffee che trovate in descrizione. Ciao a tutti e ci vediamo presto.